Non è mai troppo tardi per farsi una cultura digitale. Il Consiglio Azzurale delle Ricerche e il Registro IT vi guideranno in modo semplice alla scoperta del mondo di Internet. Io sono Beatrice Lami e oggi vi parlerò degli antivirus. Gli antivirus sono dei software in italiano, dei programmi creati per prevenire, rilevare e rendere inoffensivi programmi dannosi per il nostro computer o più in generale per i tablet e i cellulari. Questi programmi dannosi sono chiamati virus. I virus sono nocivi per il nostro dispositivo perché infettano i nostri documenti rendendoli talvolta inutilizzabili o eseguono delle operazioni senza che ce ne accorgiamo. Ma facciamo un semplice esempio. Un virus, una volta entrato nel nostro dispositivo, può copiarsi le credenziali di accesso al nostro conto corrente online e usarle in maniera indebita. Cercano di entrare quando navighiamo su siti non sicuri e scarichiamo qualcosa oppure quando riceviamo mail da sconosciuti contenenti allegati oppure che ci chiedono di cliccare su un link. Quando nel computer cerca di entrare un nuovo programma, l'antivirus va a vedere se questo programma è nella lista di quelli cattivi, ovvero se è uno dei virus conosciuti e, in caso affermativo, non lo fa entrare. Possiamo vedere l'antivirus come una sentinella che decide chi può entrare e chi no. L'antivirus deve essere sempre aggiornato perché la lista dei virus è di giorno in giorno sempre più lunga e se ho un antivirus non aggiornato potrei non riconoscere un nuovo virus e farlo entrare. È buona norma avere un antivirus nel nostro dispositivo perché ci protegge da programmi malevoli chiamati virus. L'antivirus deve essere sempre aggiornato per riconoscere i virus anche quelli nuovi, quelli creati di recente.